I finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito nei giorni scorsi un controllo presso uno stabilimento di oltre 1000 metri quadrati in pieno centro ad Angri, dove si trovavano più di 50 operai intenti al confezionamento di abiti griffati, tutti originari del Bangladesh e coordinati da un loro connazionale. I primi accertamenti hanno subito fatto emergere che 16 di loro erano completamente in nero, uno addirittura sprovvisto del permesso di soggiorno. Per la società potrebbe ora scattare la sospensione dell'attività commerciale, prevista nel caso in cui i lavoratori in nero superino il 20% della forza lavoro regolare, ad aggravare la posizione del legale rappresentante, proprio la circostanza che uno dei lavoratori non doveva neppure trovarsi in Italia. I militari della compagnia di Nocera Inferiore, infatti, lo hanno denunciato a piede libero alla locale procura per reati contro l'immigrazione clandestina, puniti con il carcere fino a tre anni. Pesanti pure le sanzioni per l'utilizzo dei lavoratori in nero, che in questo caso superano i 60.000 euro.